8 febbraio 2024 oggi parliamo a bassa voce quest'anno oltre ai vari challenge l'obiettivo è sicuramente il silenzio la ricerca di tranquillità la ricerca di ripulirsi e stare lontani da migliaia di problemi che vengono inventati e che le persone ingenue e innocue spesso non sanno e dunque un invito al silenzio un invito a staccare da tutti quei rumori da tutte quelle riflessioni inutili che riempiono la nostra mente e dunque la nostra vita ovunque c'è rumore chi taglia l'erba chi soffia l'erba e le foglie chi taglia un albero chi 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 guarda che vai su anche in montagna anche lì senti l'autostrada dappertutto e le persone vivono così sulla terra e per loro è normale i loro amici muoiono sempre di più ogni giorno e per loro è normale le persone si ammalano sempre di più e per loro è normale il cielo cambia ogni giorno dal sole al grigio sci e chimiche nel cielo e loro non le vedono la scuola è sempre più rincoglionita e loro non lo vedono e addirittura i ragazzi difendono i loro genitori no lapsus difendono i loro maestri e allora allora sono qua sono qua io sto molto bene oggi doppietta 10 chilometri di corsa la mattina 18 nel pomeriggio belle emozioni sicuramente anche un po di sconforto di stress muscolare c'è stato però l'obiettivo è sempre raggiunto ricordalo l'obiettivo quell'obiettivo che è vivere è sempre raggiunto e siccome niente inizia e niente finisce ma tutto solo si trasforma quell'obiettivo di vivere è realizzato dall'infinito poi sì abbiamo dei sogni degli obiettivi vogliamo quella donna vogliamo quella macchina vogliamo quel tempo in quella corsa vogliamo dire quella partita allo stadio vogliamo vedere il milano l'inter sì va bene vogliamo vedere i parenti vogliamo fare un piacere comprare quel regalo è vero una cosa nutre l'altra difatti è la vita che nutre tutto la vita nutre i tuoi sogni la vita nutre quel bambino quel vitello quella pianta e allora è arrivata l'ora di vivere di goderti quella vita e di prendere saper prendere quello che ti arriva e viverlo nel migliore dei modi che sia quello che volevi o che sia quello che non volevi è lì allora a te di fartelo andare bene di passare quel momento bene perché quell'unico momento non lo vivremo mai più uguale a quello ogni istante è unico irripetibile come ogni persona dunque a te di prendere quel momento di farne un momento bello per te io ti saluto ti avrò una buona giornata una buona serata oggi questo video un po' così un video un po' un po' leggero silenzioso un video per continuare a vivere aug buona serata e a presto a domani per un nuovo video domani sarà il video numero 500 il video di oggi era il 499 un video importante allora perché precede il 5 centesimo 500 video su un canale youtube sa che vado a vedere un po' mi interessa quanto quanti video fanno le persone in generale ciao ciao se non va bene adesso andrà bene dopo stai sereno stai serena stai sereno